Un uomo di 55 anni è stato ferito a Gela in provincia di Caltanissetta con numerose coltellate al collo e al torace. Il 55enne è stato ricoverato nell'ospedale Vittorio Emanuele dove è stato trasportato in codice rosso. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto criminoso che sarebbe avvenuto al culmine di una lite in via San Martino, indagano i carabinieri del reparto territoriale di Gela. A sferrare le coltellate sarebbe stato un uomo di 45 anni che ora si trova in caserma. Subito è stata aperta l'attività investigativa per il reato di tentato omicidio.